Un tempo David e Victoria Beckham avevano apparentemente un rapporto amichevole con il principe Ferri e Meghan Markle, ma negli ultimi anni la loro amicizia si è raffreddata. David Beckham ha fatto la sua apparizione nel Royal Box il primo giorno di Wimbledon, in mezzo a una frattura in corso tra Meghan Markle e il principe Ferri. L'ex capitano dell'Inghilterra si è seduto nel prestigioso stand per guardare lo spagnolo Carlos Alcaraz affrontare l'Estonemark Lyall, mentre il torneo di tennis iniziava lunedì, primo luglio. La leggenda del calcio, 49 anni, ha assistito alla partita di tennis con la madre Sandra. Insieme a loro c'erano molti volti noti, tra cui Jamie Cullen, Alexander Armstrong e Catherine Jenkins. David ha anche salutato Sir David Attemboro che era seduto nel Royal Box, e hanno annuito ciao, prima di sedersi. Mentre il Royal Box era pieno di volti famosi e star di prima categoria, tra cui atleti, attori e presentatori, non era presente nessun membro della famiglia reale. David ha posato per le foto, e ha firmato cimeli per i fan all'evento. Ferri e Meghan hanno lasciato i loro doveri reali nel 2020, e sono stati visti l'ultima volta a Wimbledon l'anno precedente. Si dice che David abbia avuto una forte amicizia con la coppia reale, insieme alla moglie Victoria. Nonostante abbiano partecipato alle nozze dei Sussex nel 2018, quando l'ex capitano dell'Inghilterra David incontrò per la prima volta il principe Ferri molti anni fa, la relazione è sbocciata quando, a quanto si dice, i Beckham hanno contattato Meghan quando si è trasferita a Londra. All'epoca si vociferava che Victoria avesse prestato a Meghan il suo prezioso agendino nero con i suoi parrucchieri e stilisti preferiti nella capitale, e secondo alcuni questo sarebbe stato l'inizio dei loro contrasti.